Eccoci qua, ciao, buongiorno. Come ti chiami? Anna. Anna, benvenuta al Campo Volo a Reggio Miglia. Vedo che sei già vestita. Dove stiamo andando? Me lo vuoi raccontare? È a fare una bellissima esperienza, a fare un launch in tandem e sono molto emozionata. È una tua idea o te l'hanno regalata? È una mia idea con mezzo regalo, c'è unita le due cose. Quindi era un desiderio tuo da tempo. Come ti senti? Bene, emozionata? Sì, è molto erratata. Ciao, ci siamo. Da 15 minuti siamo finiti. Ok, ok, watch. Ciao, ciao. 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 E allora com'è andata? Perfetto. E' bellissima. Bella. Grazie a tutti